Ancora nubi sul futuro del Cinemateatro Vittoria, struttura di Viadana chiusa ormai dall'epoca pre-Covid. Il concessionario ha chiesto infatti una perizia al Tribunale di Mantova per stimare il danno causato dalla chiusura per causa di forza maggiore. Inoltre il piano economico-finanziario legato alla concessione presentato dal Comune non sarebbe, secondo il concessionario stesso, in equilibrio e poi vi è il discorso della perdita da quantificare proprio con la perizia del Tribunale. Su questi punti va all'attacco il portavoce di Viadana Democratica, minoranza consigliare Silvio Perteghella. Il Cinemateatro Vittoria è chiuso da tre anni perché manca il certificato di prevenzione di incendi e per riottenerlo sarebbero necessarie delle opere, degli investimenti che in questo caso dovrebbe effettuare il concessionario. Il concessionario però ha chiesto una mano a fronte delle difficoltà economiche che ci sono state al Comune di Viadana. Negli ultimi tre anni il Comune di Viadana non ha accettato le proposte fatte dal concessionario, ha mantenuto chiusa la struttura e non è dato sapere perché non ha risolto lui il contratto liquidando i 12 anni residui di concessione, il controvalore allo stesso concessionario. Va ricordato che nell'anno precedente il Comune di Viadana aveva inoltre partecipato ad un bando regionale con un progetto di riqualificazione energetica del Cinemateatro Vittorio. Ma che senso ha avuto partecipare ad un bando così oneroso per la riqualificazione di un immobile che non è nella disponibilità del Comune a fronte di un contraddittorio che dura da tre anni? Il cinema comunque secondo Perteghella sicuramente non potrà riaprire nel breve periodo. Ci sono i tempi tecnici di una perizia, di un eventuale ulteriore contraddittorio e forse, speriamo di no, di una causa. In più il tempo utile per rifacimento di lavori è utile all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.